Sassari, il lockdown e la pandemia non spengono le sigarette, anzi alcuni fumatori che in un primo momento avevano imboccato la strada dell'astinenza da fumo si sono persi lungo il cammino e una volta lasciato il percorso è più difficile riuscire a riprenderlo. E' questo quanto registrato dall'ambulatorio del fumo della struttura complessa di pneumologia diretta dal professor Piero Pirina che dopo un periodo di incontri web e chat nel 2020 causa pandemia da maggio 2021 ha ripreso gli appuntamenti in presenza. Alcuni utenti che avevano smesso di fumare dall'inizio della pandemia hanno ripreso a farlo, afferma la dottoressa Francesca Polo, medico referente per l'ambulatorio del fumo e adesso per loro diventa più difficile smettere. Durante il periodo del lockdown il fumo oltre a riempire i loro polmoni ha riempito il loro tempo, forse perché sembrava calmare uno stato d'ansia. Per questo motivo prosegue, nei nuovi corsi stiamo valutando di inserire la presenza di uno psicologo. Questa figura potrebbe essere uno strumento in più nella lotta al fumo, oltre che aiutare a rendere la scelta del paziente più certa e consapevole. E così se in questo cammino verso l'astinenza da fumo alcuni pazienti si sono persi, altri sono rimasti e altri ancora sono arrivati. Non abbiamo per il momento i numeri che si registravano nel periodo pre-covid aggiunge, cioè tra gli 8 e 10 pazienti al mese. Adesso parliamo di 3-4 pazienti. Per la prima volta però abbiamo un paziente adolescente che segue il corso con un genitore, anche lui intenzionato a smettere di fumare. Gli adolescenti restano dunque una fascia a rischio. In Italia a fumare sono circa 1,2 milioni di ragazzi, compresi nella fascia d'età tra i 15 e i 17 anni. In Sardegna i dati evidenziano un 22% dei 15 anni sardi. Per questo motivo abbiamo fatto diversi incontri con le scuole, afferma ancora Francesca Polo, l'ultimo in presenza assieme alla Lilt. Nel 2019 con il professor Francesco Sircana, quindi online nel 2021 con il Rotary Club Porto Torres. Per iniziare il corso contro il fumo da sigarette, i pazienti sono sottoposti a visita pneumologica, all'esame spirometrico, quindi a un questionario che misura la dipendenza e la loro motivazione a smettere di fumare. Fatti i primi passi, l'utente viene inserito nelle attività dell'ambulatorio. Tra gli argomenti degli incontri, oltre alle indicazioni e ai consigli per smettere di fumare, vengono date anche indicazioni sullo stile di vita adeguato alla corretta alimentazione.